allora io direi nel senso di che abbiamo detto di mettere questa riga vediamo se fa questa qui col con linea sì con questo anche con colore va bene lo stesso vediamo no 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 riprendiamo linea formato linea e questa qui facciamo qui e andiamo a aumentarla vediamo se il 0 25 facciamo sia qui che qui ok ok poi l'altra cosa è questa uni o mettiamo linguetta ex uni io metterei ex uni 6 6 0 4 in modo da indicare che non è più in vigore o se no mettere la din 6 8 8 5 che è attualmente in vigore idem per l'anello è sempre una ex perché non è più cogente e dunque anello 34 ex uni 7 4 3 5 o mettere il din che il din è attualmente in vigore germania perché il corrispondente iso non c'è e poi manca la manca la diciamo la normativa iso che c'è in giro adesso non mi ricordo più il numero per la codifica ma comunque c'è devo aver fatto creato un video e dunque mettere perché comunque di commercio dunque 6s con normativa mi va bene va bene ci vediamo la prossima